Il tratto raffinato del nudo disteso, la luminosità, le forme sinuose. Dopo la mostra di Genova su Modigliani, il valore di questo dipinto è lievitato, raggiungendo 32 milioni di euro. Per gli investigatori era proprio lo scopo dei falsari. L'opera è tra le 21 sequestrate e ritenute false dalla perizia della Procura di Genova, tele grossolanamente contraffatte da vendere sul mercato o all'asta. Dietro ci sarebbe una vera e propria organizzazione transnazionale di committenti, autori di expertise fasulli e mercanti truffaldini, sui quali i carabinieri per la tutela del patrimonio culturale stanno indagando da mesi. Da quando uno dei più profondi conoscitori del genio livornese, il collezionista d'arte Carlo Pepi, insieme ad un critico francese, denunciò alla magistratura lo scandalo, chiedendo di porre fine ad un indecente e impunito proliferare dei falsi. Spero anche che sia un inizio di una pulizia che va fatta nel mondo dell'arte. Fu sempre lui, tra i pochissimi 35 anni fa, a denunciare sin da subito la beffa delle teste di modiri trovate nel canale di Livorno. Scherzo di tre studenti universitari, oggi uno di loro è un famoso oncologo. La nostra testa è in una scatola al comune di Livorno. Volevamo fare uno scherzo e quindi noi abbiamo pensato di creare una specie di scultura e di farla trovare laddove stavano cercando. Essendomi occupato poi di oncologia, ho cercato di sfruttare questa notorietà anche in termini di raccolta fondi. Allora si parlò di burla. Nell'inchiesta di Genova si indaga per truffa, falso e ricettazione.